Le parole rassicuranti non coincidono con i fatti, è quanto ha affermato il sindaco di Polistena Michele Tripodi in merito al comunicato stampa relativo all'ospedale di Polistena. Abbiamo letto sulla stampa, dice il primo cittadino, di un incontro tenutesi nei giorni scorsi fra alcuni sindaci della Piana e il presidente della Regione Calabria, commissario della Sanità, Roberto Chiuto. Nella nota diffusa dall'Associazione Città degli Ulivi vi sono parole rassicuranti rispetto alla paventata ipotesi di declassamento del presidio ospedaliero di Polistena da Spoc ad ospedale generale, alla quale ci siamo opposti e ci opporremo con tutte le forze di Cetripodi. La realtà però è ben diversa, seppure ancora formalmente nessuno abbia usato predisporre i documenti in tal senso, anche per la preannunciata mobilitazione a difesa dell'ospedale di Polistena, la posizione assunta anche pubblicamente da alcuni dirigenti medici del presidio, costretti a ridurre i posti letto per mancanza di personale o addirittura sospendere gli interventi chirurgici programmati per carenza di anestesisti, la dice lunga sulla non corrispondenza dalle parole rassicuranti rispetto ai fatti che si presentano impietosi agli occhi di tutti. Per ripristinare ad esempio l'ufficio CUP in difficoltà e coprire i conseguenti disservizi delle ultime settimane, dice il sindaco, è stato trasferito personale dai reparti spogliando gli organici già esigui degli stessi. Ancora manca personale in radiologia e sta diventando problematico persino fare refertare un'attacca. L'azienda, seppur sia stata da noi più volte incalcata e perciò abbia compiuto qualche timido passo, non è mai pronta a dare soluzioni definitive ma solo a tamponare le emergenze. Pertanto, pur comprendendo bene che il presidente commissario, ovviamente si riferisce all'occhiuto, si sia insediato da poco, non ci limitiamo a chiedere il mantenimento dello SPOC di Polistena, ma vogliamo risposte celeri circa il suo funzionamento quotidiano che al momento non è completamente garantito. Tripodi invita ancora una volta il presidente della regione a prendere contezza di persona con sopralluogo della grave situazione di difficoltà dell'ospedale SPOC di Polistena, che oggi, dice il primo cittadino, per numero di prestazioni e servizi dati ai cittadini, è il primo e principale ospedale della piana dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria.